Penso che sia una cosa legata ai soldi, un altro non vedo. Il sindaco Ricci vorrebbe toglierlo come testimonial della regione Marche. No, questo sbaglia. Perché? Sbaglia, perché comunque è sempre una persona importante, è sempre una persona che ha dato tutto per l'Italia. Non vedo perché tutti questi... Ognuno fa dei propri ideali quello che ritiene giusto. Bene quello che ha fatto, ha fatto il suo interesse. Giusto confermarlo come testimonia della regione Marche, visto che c'è polemica in questi giorni? Direi di no. Direi di no perché non è stato coerente con le promesse che erano state fatte a suo tempo, però la scelta sua è stata quella e sicuramente quella più idonea. Meglio Tamberi, come ha detto il sindaco Ricci? A livello di immagine è sicuro. È uno schifo perché non si può lasciare un posto istituzionale per andare a prendere una barca di soldi. Una persona che nella sua vita, attraverso la sua attività, ha guadagnato miliardi. Quindi fare queste scelte per me è letteralmente uno schifo. Invece c'è polemica in questi giorni. È giusto confermare Mancini come testimonial della regione Marche? No, 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 assolutamente. Per me non è giusto. Quindi è d'accordo con il sindaco Ricci? Sono d'accordo. Io di Ricci non condivido quasi niente, però in questo caso sì, sono d'accordissimo. Per quello che mi riguarda lui ha fatto bene andare in Arabia Saudita. Il sindaco Ricci invece ha proposto Tamberi, cosa ne pensa? Va benissimo anche lui, voglio dire, è un altro esponente delle Marche di altissimo livello, però non userei la cosa dell'Arabia per fare la mia scelta per quello che riguarda me. Però il sindaco Ricci ha tutto il diritto di fare quello che preferisce e ritenere più opportuno. Che va bene anche così, anche con Mancini che, come dice lui, fa vedere le Marche già nel mondo. Quindi è giusto riconfermarlo? Giusto riconfermarlo. Andrebbe bene anche quello che ha detto Matteo Ricci con Tamberi, ma per me va bene anche continuare con Mancini, perché no? Lei invece cosa ne pensa? Sono due buoni personaggi comunque. No, io penso che sta bene in Arabia, stia laggiù e buonanotte.